E vi annunciamo in tempo reale per quanto riguarda il mondo del calcio che per quanto riguarda i quarti di finale della Champions in Napoli ha pescato il Milan. Dunque detto questo entriamo nel vivo anche di quello che è il mondo e la nostra carellata di grandi nomi e artisti che dalla cucina campana stanno raggiungendo ottimi consensi nazionali. E' quasi terminata tra l'altro la terza stagione del graditissimo successo di Mario Fuori, la serie televisiva che ha davvero conquistato tutti e tra gli attori protagonisti diretti dal regista Ivan Silvestrini c'è anche l'ospite di oggi, Lia Carfora. Buongiorno e bentrovata qui a Mattina Live. Come stai Lia? Bene, grazie. Felice di essere a Napoli. Grazie, ecco siamo felicissimi invece noi di averti qui per conoscerti e oggi ti racconterai il nostro pubblico di mattina live e io direi proprio di partire dal tuo personaggio, quello appunto interpretato da te in mare fuori dove ti sei calata in un ruolo molto duro, in un ruolo contrastato, la mamma di Mimmo. E hai interpretato la fermezza di una donna che decide di dire no ma soprattutto di escludere il proprio figlio dalla vita a causa della sua violenza. Come sei riuscita ecco ad interpretare il ruolo di questa donna comunque forte, coraggiosa, empatizzando tra l'altro una scelta difficile che doveva un po' entrare in sintonia anche un po' con le tue emozioni. Certo sì, intanto vediamo proprio un'immagine, una fotografia che ti ritrae. Una volta fu esclusa perché ero troppo bella da un regista e evidentemente mi posso anche imbruttire insomma. Io penso ecco che più che una madre che rifiuta, qui c'è una madre addolorata e questo forse più che la bruttezza è l'immagine del dolore perché è una madre che ha rifiutato il figlio, è vero, ma solo per difendersi perché è una mamma che non vuole più rischiare. Quindi senza creare giudizio perché l'attore non fa questo quando gli capita un personaggio e insomma ha dovuto rappresentare il dolore. La presente dolore infatti ecco, se possiamo vedere l'immagine a pieno schermo perché oltre all'aspetto psicologico che viene comunque restituito, c'è stata come ricordavi tu una profonda trasformazione fisica che ha inciso molto sulla ricostruzione del ruolo. Ecco, c'è una Lia ma soprattutto una madre che è segnata nel dolore, nel volto, nei gesti, anche nella sua vocalità. Come si fa ad entrare in sintonia, diventare tutt'uno con l'anima del personaggio? Ecco, dove si trova l'ispirazione, quel tanto dolore? Perché molte volte queste esperienze non sono poi personali e autobiografiche, quindi bisogna ricavare un po' dal profondo di noi stessi per far venire fuori quel profondo dolore che segna voce, volto, gestualità. Certo, sì, sicuramente c'è una capacità di analisi dell'attore, c'è un contributo artistico, emotivo, l'attore è chi osserva senza farsi accorgere, è un grande osservatore dell'animo umano, dei comportamenti umani, quindi assorbe tanto dalla vita. E al momento opportuno poi con l'aiuto anche del regista tutto questo viene fuori. Sì, c'è stato un trucco meraviglioso e poi c'è un testo perché il testo parla, quindi il testo mi ha permesso comunque di scendere proprio negli inferi perché dire ad un figlio no, ma no deciso, no imbruttito, indubbiamente ti fa, ti ripercuote dentro e quindi si manifesta anche nell'immagine. Nell'espressione, nel volto. Mare fuori sicuramente lì ha avuto il merito di creare un vero e proprio caos mediatico, è una serie seguitissima, una serie che piace tantissimo, siamo quasi alla fine della terza, aspettiamo già la quarta stagione, una serie che appunto non termina con le puntate ma prosegue con confronti e tante opinioni. Anche tu sei stata al centro di un dibattito virtuale, quindi ecco se un po' ce lo puoi raccontare, ti aspettavi questo coinvolgimento così grande, diciamo anche emotivo da parte del pubblico si social? Devo confessare di no perché è stato sorprendente, poi è una cosa che ho girato mesi fa, avevo un po' dimenticato, quando è risorta, insomma c'è stato tutto questo riscontro, sono stata un po' travolta e sono andata appunto a cercare qualche testimonianza sui social, Cioè a parte i numeri che veramente fanno impressione delle visualizzazioni, ma ero incuriosita dai commenti e ho visto veramente un pubblico spaccato, c'è chi difende i figli a spada tratta, i figli vanno perdonati, i figli... Perché c'è proprio il commento, no? In tempo reale c'è il commento anche, il giudizio, la critica. Ma ho letto anche di una mamma che ha detto io ho dovuto fare proprio così, era l'unica via di salvezza per mio figlio. E un altro che mi ha veramente impressionato, mi ha commosso, è stato quella di un ex detenuto, il quale ha scritto mamma e papà venivano ai colloqui puntualmente tutte le settimane, tutte le volte, Poi sono andati via, sono morti e io spero che mi abbiano perdonato. Quindi c'è il dolore ancora per chi non riceve la grazia, no? Ma forse per chi non la riceve detta, perché poi un genitore che ti viene a trovare tutti i giorni o tutte le volte in galera significa che non è che ti ha perdonato, ti ama. Ti ama. E però a volte le cose vanno espresse, perché ce le portiamo dentro senza avere l'occasione di comunicarle. Sei emozionata? Sì. Ma per quello che stai dicendo, non per il fatto che ci sia questa intervista, ecco per quello che stai raccontando, è come se un po' lo vivessi in prima persona, ecco nelle emozioni di chi effettivamente poi si è trovato a vivere delle situazioni del genere, al di là della serie televisiva. Personali? No, dico nel senso, ecco, attraverso questi messaggi che hai ricevuto, hai raccolto il dolore di tante persone e ti sei sentita, ecco, un po', tra virgolette, con lei che può in un certo senso anche un po' esorcizzare il dolore, far trovare anche un po' quella luce di speranza che non è mai scontata. Molti sperano nel perdono da parte della madre di Mimmo, io non ho notizie di questa cosa e non so, cioè non posso aggiungere nient'altro. Non possiamo aggiungere altro, però possiamo ancora parlare di te, Elia, al di là della serie di Marefuori, perché la tua passione per la recitazione arriva in tenerissima età, nonostante ecco però il tuo fuoco bruciasse in te da piccola, hai proseguito gli studi fino a raggiungere la laurea in matematica, che sembra essere un po' per adossare di profondo contrasto, no? Una distanza siderale rispetto a un mondo dello spettacolo, ecco, una vita in equilibrio tra la razionalità numerica e la magia di un palco, come sei riuscito a gestire questo percorso parallelo, se possiamo dire, perché poi sei riuscita a realizzare il tuo sogno, ti ritroviamo nella fiction, reciti e quindi non finite di più bello. Certo, sì, in effetti sì, ho iniziato questo percorso, insomma, quasi in antitesi apparentemente, perché la matematica è un grande sforzo di fantasia, dico io, no? È vero. Però mi ha aiutato con una grande capacità di analisi, cioè, ecco, Non è caso, analisi. Esatto, sì, quello che dicevo prima, no? Quello di riuscire a percepire delle cose anche piccole del comportamento umano che poi io catturo, rubo. E poi sì, insomma, sono scappata un po' da questo mestiere, quello della matematica, per ritrovarmi a far parte di questo progetto veramente mediatico, importante, ma anche artistico. Ma anche artistico, soprattutto artistico. Tra l'altro, ecco, la tua passioni per il teatro, poi possiamo dire che è stata un po' più forte, che è andata al di là della razionalità numerica, tra laboratori, corsi di formazione, incontri delle persone che hanno segnato questa percezione del mondo recitativo, come Pierpaolo e Giancarlo Sepe. Che incontri sono stati questi perché importanti, ma consapevoli di una strada che poi avresti percorso e che ti ha restituito meritatamente quei bei risultati di cui stiamo parlando quest'oggi con te. Sì, prima Pierpaolo e poi Giancarlo, nipote e zio, sono stati dei maestri sicuramente, perché mi hanno cambiato un po' la percezione, la presenza, il modo di stare in scena, e io direi proprio lo sguardo, l'appiglio. Quello che stiamo vedendo anche. Questo è un ritratto di Marco Lausi, un fotografo di scena, di uno spettacolo tratto dalla regia di Giorgia Filanti, che è andato in onda, è andato in scena a Roma, al Teatro 2, un paio d'anni fa. Insomma, è una storia complessa, una storia di donne che vengono messe via perché scomode durante il ventennio fascista, quindi erano donne trattate in un manicomio, c'erano non solo matte, ecco, c'erano anche donne politicamente scomode, amanti scomode, e quindi è stato complesso. Da fartacere, da fartacere. Da fartacere, esatto, quando nascere donna già era una patologia. Una patologia, esatto. Tra l'altro abbiamo avuto anche la possibilità di ammirarti nella serie di Re Uno Noi, ecco, una citazione, e comunque una celebre Napoli tra gli anni 70 e 80, una spaccato anche della nostra città, nel suo massimo fulgore culturale, ma anche musicale. Quella che esperienza è stata, ti chiedo, Lia? È stata un'esperienza divertente, ho incontrato Luca Ribuoli, Pino Pellegrino, un altro grande artista napoletano che riesce a rendere molto bene, insomma siamo stati amici poi da quel momento in poi. Un piccolo ruolo però, insomma, è stato simpatico entrare in un climax romano dove si è creata appunto questa scena napoletana. È stato... Ma dove vuoi arrivare, Lia? Dove sogna di arrivare? Ma io sogno di fare un buon lavoro. Io continuo a studiare, continuo a lavorare su me stessa. Prescindendo da quello che sarà. Sì, esatto, io voglio fare un buon lavoro, cosa che spero di aver dimostrato anche con quest'ultima cosa. Sicuramente, infatti ne stiamo parlando questa mattina, io ti ringrazio di essere stata qui con noi, di esserti raccontata. Grazie davvero, complimenti per tutto quello che di bello hai fatto, ma soprattutto per la bella persona che sei. Grazie. Grazie a Lia Carfora per essere stata qui con noi oggi e ci ritroveremo presto magari per parlare di prossimi progetti. Speriamo. Piccolo break, restate con noi.